un'ultima il mio had con uiii che ritardo c'è nessuno ah ciao sono mazze tess e mi hai partito la registrazione più tardi non so come mai quindi non avrò la tua parte iniziale stavo dicendo che il mio personaggio tettuto è molto migliore che il tuo Perché quando si muove Vedi i due budini Che si muovono Invece da te non ha niente Tu sei un joystick E appunto tu Tu hai un joystick E io due pere Vabbè Ok Adesso chissà cosa succede però a sto punto Cioè ti ha praticamente sfracassato del tutto Io sono vivo però A me non è successo niente Che cosa Eccoci Benvenuto Ma che Guarda che bello Dove siamo A me Oh mio Cosa non bisogna una tetta Guarda Ma come cammini scusa Guarda Anche tu eh Guarda Snoop Ma che Guarda cosa ho addosso Ragazzi Cos'hai È vero Ma guarda Che anno è scusa Maggio 1950 Non lo so Non c'è scritto qua guarda Però Max Eh Siamo in tema Iniziamo la canzone Stracciata di culo Ma no dove sei entrato scusa Sei andato giù Sì hai visto la pubblicità Sì ho visto Oh ma Devi vedere la cucina Guarda come camminano Ma c'è lo stesso cartone animato di sopra qua Guarda Infatti Questo è un salotto perfetto per farci un film horror Che dici Non è solo un film horror Eh io direi qualcos'altro Marco Ti devo censurare No ma cosa pensi Io pensavo a Prisonville Non l'hai mai visto il film Che film Mai visto Voglio entrare io adesso Voglio vedere io la cutscene Ma sei un Donnazione una testa Uh ci ho preparato la collezione preferita Scusami siamo negli anni 50 E il mio personaggio è donna Quindi sono una coppia lesbica No 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 Ti baglio Non lo so Solo che stiamo mangendo Alla grande Ah no e Basta Dai questa volta vai tu Ah ha portato il giornale Vado a prendere il giornale Si arrivo car Ah vado a prendere subito il giornale Guarda Pensa andare in giro sempre così Ah afferra il giornale Ciao bello Guarda quanta bella gente Ma gli altri non compone Ma gli altri non camminano da compi Davvero Ma volevo fare io la cazzin No tanto non Ah ecco C'è Oh Sali in auto No voglio salire io in auto con quel bad Giovane Lascia salire me Fammi salire Ti picchio Scusami Ma io devo salire Dietro Oh ma io voglio salire dietro Non mi vedi guidare Guidi sempre tu alla fin fine Ah ah NOL Non sto guidando Oddio ma come stai guidando male Voglio sgommare Ma guarda Guarda ci sono le frecce Le frecce per dove andare Oh no voglio guidare qualcuno Siamo quasi arrivati Oddio ma sto guidando da cani Guarda come guida male E ho capito Il nostro presidente è un santo Dice Oh la la Cosa Dove chiamano Socializza Ciao Ciao Che cavolo Ciao 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 Vado a socializzare qua Devi andare sul blu Vai Sul blu Vai Ma ci mette tre anni Sto arrivando Yeah Coffee open Ma che Si è fatto male Devo andare a prendere il bonus salute Fate scattare una foto Ecco Ok mi è scaduta una foto Ma che Entri nel ristorante Dove è il ristorante? Ah è di qua Ciao belli Ciao belli È stato un piacere Ciao 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 Secondo te Iscrivetevi Ehi ma c'era un tizio spixelato Ciao Pixelato Oddio è inquietante Cos'è? Oh Abbiamo detto una parolaccia Sono cattivi Hai visto? È un horror Cos'è sta roba? Ciao Grazie a tutti.